Grazie, il bello di questa manifestazione accanto a tutto ciò che è già stato detto è che punta sulla nostra identità, sulla montagna, sul territorio, ma lo apre all'esterno. Il Festival è sempre di più un fenomeno, un'iniziativa legata al Trentino, alla città di Trento, al territorio regionale, ma che ha varcato ormai tutti i confini ed è arrivata in tutto il mondo ed ospita qui eventi, iniziative e culture di tutto il mondo, quindi un Trentino che valorizza la propria identità, valorizza i propri misteri antichi, valorizza le proprie tradizioni, ma contemporaneamente le gioca come fattore competitivo, le lancia sull'esterno per valorizzare la montagna, perché il Film Festival non sia solo un evento di grande interesse culturale, di grande livello culturale, ma anche una vetrina per i valori della montagna, per chi ci vive, per chi vuole trovare anche nuove forme per la sostenibilità ambientale, che vuole continuare a garantire in montagna anche qualità della vita, assieme ai bambini, alle famiglie e alle nuove generazioni, ma assieme soprattutto a coloro che in montagna vivono e ogni giorno sono testimoni di questi valori e anche di queste fatiche.